Amore mio dai che ce la fai, dai che ce la fai amore mio, se ci riesci ti do un bel bacino Perché se no mi fa emozionare e mi arrossisco tutto Ragazzi come avete appena potuto vedere nelle scene iniziali, oggi andrò a trollare un mio amico Con questo nome molto molto particolare, Deliziosa Dolceti Perché si non c'entrava in 2T, il nome era troppo lungo, così io decido di mettere 1T ragazzi Mettetemi 10 in italiano ora in questo momento Il mio obiettivo di oggi ragazzi è quello di farlo innamorare di me e aspettare finché non mi chiede il finanziamento Quindi ragazzi per questo video raggiungiamo assolutamente 10.000 mi piace ragazzi Quindi mi raccomando sfollicete tutti i commenti, do 5 secondi di tempo Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1 Ok ragazzi avete lasciato like Ma vi ricordo di andare nel negozio oggetto di iniziali, supporto un creatore e mele trattino basso maxilandum E di seguirmi su Instagram maxilandum yt Ok ragazzi io ho già mandato la richiesta ragazzi Non potete capire come ho fatto a farmi trovare la sua amicizia su questo account Ero con lui in chiamata poco fa e io ho detto bro bro ci sta una fan che ti ha contattato E lui ok ok Noi mi chiamo vediamo se entra Ciao ragazzi sono deliziosa dolcetti mi piace i mobbing i dolcettini No raga basta vi prego non posso andare avanti così Ragazzi Matt è appena entrato in lobby Lui non mi sente in questo momento ma vi ricordo che vi trovate qua sotto in descrizione il suo canale Fateci un salto e iscrivetevi ovviamente prima però guardate il video fino alla fine Ehi punto interrogativo punto interrogativo trattino basso m a t e ciao Ciao Come va tutto bene sono la tua ball numero uno E chi è che lo dice questo Io Perché ti seguo da quando eri un bambino nella cule e ti guardavo dalla finestra eri tanto bellina Ehm ok va bene Ehm perché mi hai invitato in lobby Eh no perché io ho sempre desiderato giocare con il mio youtuber o preferitoro Quindi adesso se vuoi andiamo a giocare una coppia e ci divertiamo tanto Così poi magari nel momento siamo vicini vicini e ci coccoliamo tanto tanto Oddio ok metti pronto Ma te ma perché usi questa schiena femminile Io a me piace vedere le tue polmi maschili A me piace tanto vederti e ti amo Ma ti droghi? Di te Oddio ti prego fa che questo in cuo finisca Eh sì bello Ehm dove andiamo? Ehm ehm ho la mappa un po' incasinata Eh non vorrei di Vabbè andiamo qua No scherzavo Andiamo qua No scherzavo Andiamo qua Ma te sai giocare bene a questo gioco oppure fai caccare? Io non è che sono tanto forte a questo gioco Perché praticamente devi sapere che a me piaceva fortnite Però da quando ti ho visto non ho fatto altro che osservarti tutti i giorni Quindi non ho giocato molto Ma perché te sei dove abito? Ovvio ti guardo dalla finestra tutti i giorni in ogni momento Ma io davanti alla finestra ho un palo E io sono quel palo Ok li tiro le gioco C'è gente da me C'è gente da me Aiuto cavaliere rosso Cavaliere principe blu che sei dei miei sogni Eccoti qua Amore mio Amore mio Ma io però dopo ti volevo chiedere anche una cosa 27 Aia Oh mio dio l'ho missato 72 No Sì Uccise Ale 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 Ma te tu sei il mio campione Ti limonerei tutto quanto Ah Altra gente Ah Ho venti di vita Hai cure Senta uno Hai cucur Mai non ho niente però Arrivo Vabbè Io da grande vorrei diventare come te Oppure vorrei vivere tutti i giorni con te Vorrei passare tutta la mia esistenza con te Però capisci bene Ognuno ha i suoi spazi Non è vero Quindi 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 Gente nella casa Aia Mi ha fatto male Io mi curo Oh shit Vai Cavaliere mio Non ho colpi Non posso sparare io Aspetta Prova a fare così Ah non è una Colpi dietro Colpi dietro Colpi dietro Colpi dietro Eh ma mi servirebbero di cecchino Eh No Occhio Se lo prendo voglio una statua Ah Eccolo L'ho preso L'hai preso Ne è perato uno Ne è stato 75 con la cosa Piaccina Eh Ma ti Ma te Oh 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 Calmati Le rose sono rosse Le viole sono marroni Ma te è il migliore E ti vorrei tutti i giorni Eh però Non puoi dire così Perché Perché se no mi fa emozionare Mi arrossisco tutto Blah 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 Eh andiamo in safe Che ne dici Ma sì ok Andiamo andiamo No no devi stare vicino a me Io ti voglio tutta vicino a me Vieni qua Eeeh Vai via Sei pazza Ma perché sei così Perché io vado pazza di te Con gli altri sono normale Con te sono pazza Sono una Sono la tua Sono la tua porcellina Comunque Deliziosa Dolcetti Che cosa c'è Eh ti devo dire una cosa però Che cosa Devo dire che provo un forte sentimento per te Eh Oddio Oddio Puoi riterlo di nuovo così lo regista e lo faccio vedere a tutte le mie amichette Eh devo dire che provo un forte sentimento per te Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Quanti anni hai dai 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 facciamo i seri Dai 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 Io ne ho tredici Io ne ho sedici Sono tutta per te Bella e grossa e grossa E allora si potrebbe fare Ok domani viene a casa e mi fai Forte Sì 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 Quanta gente c'è Amore mio Devi salvarmi tu eh Ti difenderò io Tranquilla tranquilla Sto a morì sto a morì ho frato Cura 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 Dici ho medichi Corri 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 Ok eccomi Ho vogliato il kit Sono morto Dai dolcetta credo in te Devi difendermi te adesso È un problema questo Io non so giocare Aiuto 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 Ha chiedato Da me da me da me da me No 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 Altri mi sparano Dov'è? Solo 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 Dov'è? Dov'è? Sotto 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 Qua Vai Si Ma se sei morta Eh si Dai Amore mio È toccato a te È il tuo momento Se vincerai Sarò tutta tua per sempre Amore mio Dai ce la fai Dai ce la fai Amore mio Se ci riesci Ti do un bel bacino Oh, sì, vendite a te Vai, vai, vai Che lo chiedi Per te No, ti ha potuto Oh, vendite, oh mio Dio Oh, mio Dio Vai, vai, no No Dai che ce la fai Dai, 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 dai No Angeli Matte Ti ho portato A casa mia, ti piace Guardala qua Non è bella Ma come no È la casa dove uscirà il nostro primo bambino Entriamo Allora Posso vedere un attimo la casa? No, no, no Tu ora sali Andiamo al di letto Vieni qui Cos'è il di letto? Il letto Vieni qua, vieni qua Questo qui è il letto E adesso mi metto sopra E al mio via facciamo una cosa Ok Matteo, allora devo rivelarti una cosa Non ho voluto dirtelo dall'inizio perché secondo... Che cosa è successo? Ti è esplossa la casa Eh, sì, ecco, tutto lo stai dire Non ho voluto dirtelo dall'inizio perché avevo paura di incazzarsi con me Mi dice così però mi spavento cosa, 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 cosa In poche parole, no? Devi sapere che... Eh, non è che... È un po' particolare la situazione Tu che ne pensi? Mattee Dimmi Mattee, sei appena stato trollato Penso sia stato abbastanza chiaro come cosa Che... Era da un po' che non ti trollavo, Mattee Che è successo? Ti sono mancati i miei troll? Così tanto guarda che non dormivo di notte 10.000 like per questo video mi raccomando Iscrivetevi al suo... Ah, ma stavi registrando? Eh, per forza Tu, altro che, deliziosa, dolce Adesso vengo a casa tua E voglio vedere cosa fai Ok, però calmati, calmati, calmati No, no, ciao Ragazzi, si è arrabbiato veramente, veramente tanto Non se no, raga, penso che per i prossimi 10 giorni non mi parlerà ragazzi Penso proprio così Quindi, il video di oggi vi dice qui Ringrazio tutti per la visione 10.000 like E ciao ragazzi Bye Fatemi sapere nei commenti Qual è stata la vostra parte migliore Iscrivetevi al minutaggio Bella